Incubo e scherichi a colli sulla stagione estiva a Vietri sul mare. Dopo le analisi effettuate dall'ARPAC, infatti, è stata rivelata la presenza del batterio nel secondo tratto di marina di Vietri nei pressi della foce del Bonea. Il sindaco Francesco Benincasa ha firmato l'ordinanza temporanea di divieto di balneazione nel tratto di costa interessato, ma allo stesso tempo ai nostri microfoni chiarisce i termini della questione e rassicura turisti ed operatori. La stagione non è a rischio, il sistema di depurazione funziona. Era cattivo tempo, il mare è mosso, hanno fatto il perilivo ed ovviamente c'è stato qualcosa che non ha funzionato, c'è stato qualche scarico in più e quindi il risultato è stato negativo. Potevo, a dir la verità, evitare perché almeno l'ARPAC ha detto che era quasi discrezionale, ma ho ritenuto per la salute dei cittadini di emettere un'ordinanza temporanea. Non è possibile che un metro più in là è eccellente e un metro più qua si ritenga che possa essere scasso. Questo è un controsenso per cui abbiamo chiesto un'analisi più puntuale. L'inquinamento è una cosa, io mi sento di dire con certezza e con grande chiarezza, che il nostro sistema di collettamento e di pulsazione delle acque verso il mega depuratore funziona perfettamente, però posso dire certamente che le acque a mie a vietri sono ottime e che qualche incidente di percorso si può verificare e a cui stiamo ponendo rimedio.